Serbia, Jedan Sto 100 Siamo soli contro tutti o siamo soli con tutti? Il padiglione serbo risponde con il rapporto 1-100 come metafora di spazio comune, con uno spazio bianco occupato da un tavolo anch'esso bianco in Korean di 22 metri di lunghezza e 5 di larghezza. I visitatori condividono fra loro il tavolo, considerato terreno comune. Per muoversi attorno ad esso hanno a disposizione solo un metro e mezzo e il loro passaggio provoca effetti sonori. Noi tocchiamo la superficie, noi ci guardiamo e ci sentiamo, ma esso ci divide o ci unisce?